Ciao a tutti, facciamo un tabata per le braccia, bicipiti e spalle. Ci servono due pesetti se li abbiamo a casa, oppure una bottiglia, un litro, un litro e mezzo, due litri, insomma, non di più. Un braccio lavora sempre in isometria e l'altro lavora. Siamo pronti? Mettiamo la musica, io spiego prima di far partire l'esercizio. Ok? Viego la musica. Braccio sinistro in isometria, destro spalle, apertura dell'aria. Via! Cambio, destro in isometria. Sinistro, apre. Schiena dritta, glutei chiusi, addome chiuso, via! Braccio chiuso, eh? Braccio chiuso questo, braccio chiuso. Gomme dal fianco. Braccio destro steso, sinistro, ora bicipite. Braccio leggermente perso, nocchia verso l'alto, altezza spalla, via! Cambio, stendiamo il sinistro, leggermente flesso. Braccio destro sul fianco, schiena dritta, glutei chiusi, via! Braccio schiena dritta, schiena dritta, glutei chiusi, via! Braccio cuz! Braccio! Braccio chiuso, glutei chiusi, bambini al fianco, in isometria. Destro apri verso l'esterno Comito flesso Via Cambio Piega bene Qua, 90 gradi Apre il sinistro Schiena dritta Vai Ok Destro aperto Isometria Sinistro Bicinile Domito stretto Via Cambio Cosmos lexe 5 4 3 2 1 Go 4 3 2 1 Go Buongiorno!